Ciao bambini! Oggi c'è una novità. Il libro di oggi non lo leggerò io, ma lo leggerà la mamma di Dike, perché è un libro in inglese. State attenti, eh! Si intitola Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? Io non sono molto brava, vedrete che la mamma di Dike ve lo leggerà benissimo. A presto! Ciao ciao! What do you see? Orso marrone, orso marrone. Cosa vedi? I see a red bird looking at me. Vedo un uccellino rosso che mi sta guardando. Red bird, red bird. What do you see? Uccellino rosso, uccellino rosso. Cosa vedi? I see a yellow duck looking at me. Vedo un'anatra gialla che mi sta guardando. Yellow duck, yellow duck. What do you see? Anatra gialla, anatra gialla. Cosa vedi? I see a blue horse looking at me. Vedo un cavallo blu che mi sta guardando. Blue horse, blue horse. What do you see? Cavallo blu, cavallo blu. Cosa vedi? I see a green frog looking at me. Vedo una rana verde che mi guarda. Green frog, green frog. What do you see? Rana verde, rana verde. Cosa vedi? I see a purple cat looking at me. Vedo un gatto viola che mi guarda. Purple cat, purple cat. What do you see? Gatto viola, gatto viola. Cosa vedi? I see a white cat looking at me. Vedo un cane bianco che mi sta guardando. white dog, white dog. What do you see? Cane bianco, cane bianco. Cosa vedi? I see a black sheep looking at me. Vedo una piccola nera che mi sta guardando. Black sheep, black sheep. What do you see? Pecola nera, pecola nera. Cosa vedi? I see a goldfish looking at me. Vedo un pesciolino rosso che mi sta guardando. Goldfish, goldfish. What do you see? Pesciolino rosso, pesciolino rosso. Cosa vedi? I see a teacher looking at me. Vedo una maestra che mi sta guardando. Teacher, teacher, what do you see? Maestra, maestra. Cosa vedi? I see children looking at me. Vedo i bambini che mi stanno guardando. Children, children. What do you see? Bambini, bambini. Cosa vedete? We see a brown bear, a red bird, a yellow duck, a blue horse, a green frog, a purple cat, a white dog, a black sheep, a goldfish, and the teacher looking at us. Vediamo un orso marrone, un uccellino rosso, un'anatra gialla, un cavallo blu, una rana verde, un gatto viola, un cane bianco, una piccola nera, un pesciolino rosso e una maestra che ci stanno guardando. That's what we see. Ecco cosa vediamo.